per mangiare benissimo adesso arriva vedrai vieni dura occhio le galline che ti portano via tutto ciao visite ciao ciao per vederci adesso mangi visite la pappatoria di capodanno anche le galline si tengono compagnia guarda visite a mangiare visite mannaggia che vorace una fame così grazie per tutto questo cibo ripassa l'epifania molte grazie davvero arrivederci grazie per la visione